Sono 71 gli ex consiglieri comunali, alcuni dei quali ancora in carica, che dovranno restituire i gettoni di presenza per le riunioni di conferenza dei capigruppo percepiti tra il 2009 e il 2017, per un totale di circa 61.500 euro. Da un lato, infatti, i regolamenti comunali equiparano la conferenza e le altre commissioni, dall'altro la legge esclude la possibilità di retribuzione per questo genere di attività, così come segnalato dal consigliere di opposizione Gabriele Antonino. Le cifre per i singoli consiglieri oscillano tra i 3.500 euro e i 25 euro. La somma più alta dovrà restituirla all'ex consigliere comunale Antonio Pisanelli, seguito a ruota dall'attuale sindaco Riccardo Rossi con 2.500 euro, per arrivare a Giuseppe Cegli e oggi presidente del Consiglio, la cui cifra dovuta è di 25 euro. E così, nei prossimi giorni, da Palazzo di Città partiranno 71 lettere bonaria di richiesta di restituzione delle somme illegittimamente percepite, a fronte delle quali molti hanno fatto sapere che si opporranno. Tra questi, Vincenzo Guadalupi, che ha annunciato che si rivolgerà a un magistrato. In questa vicenda c'è una responsabilità precisa, è quella dei dirigenti, in particolare del segretario comunale dell'epoca, ovviamente, e poi quelli che si sono succeduti nel tempo. In questi anni ci sono stati due commissari prefettizi, i quali hanno modificato regolamenti molto più importanti di questi. Io sono dell'avviso che su questi problemi, una volta per tutte, l'amministratura di Brindisi debba incominciare a mettere le mani su alcuni argomenti importanti.